buona sera da filippo brusa e benvenuti alla tredicesima puntata di bianco rossi news bianco rossi news fa 13 con una puntata speciale divisa in due parti come era accaduto settimana scorsa perché chiuderemo questa trasmissione con una piacevole sorpresa alain prost quattro volte campione del mondo ci ha rilasciato ha rilasciato proprio in esclusiva per bianco rossi news una video intervista molto bella e vorremmo condividerla con gli ospiti di oggi con cui giochiamo in anticipo la gara d'esordio del varese a besuzzo e questi due ospiti sono due ospiti particolari perché abbiamo il presidente del verbano pietro barbarito buonasera barbarito grazie per essere venuto e abbiamo fabrizio berni per la seconda ospite per la seconda volta ospite di bianco rossi news buonasera fabrizio berni buonasera e non sappiamo però che sottopancia metterle perché lei non ha un ruolo ufficiale nel varese o ce l'ha no assolutamente no io do un aiuto cerco di aiutare il varese in questo momento quindi mettiamo come sottopancia metteremo fabrizio berni aiutante del varese o socio del varese no aiutante del varese direi lei fra l'altro proprio questo studio aveva negato che un domani che avrebbe diciamo acquisito delle quote del varese in realtà le acquisirà in realtà non ne sono sicuro che acquisirò delle quote del varese vedremo bene quindi adesso oggi è il 5 di settembre e tutte le quote sono sempre in mano nelle mani di claudio benenchi giusto per il momento sì bene la gara di esordio del varese si gioca come tre anni fa a besozzo sul campo del verbano tre anni fa il varese vinse 6 a 0 prego il nostro regista stefano rossi di mandare le immagini di quel precedente che era andato in scena il 6 settembre del 2015 vediamo mavillo gheller sulla linea laterale batte una rimessa appunto laterale e la palla va in area di rigore del verbano poi il varese segna questo è il gol di se non erro di marco giovio ecco barbarito quel giorno ci fu tutto esaurito alla bombonera lo stadio di besosso diciamo si chiama anche bombonera che in spagnolo vuol dire scatola di cioccolatini lo stadio del bocca juniors si chiama bombonera proprio per quella la forma di una scatola di cioccolatini 1500 e ha fatto un grande incasso tre anni fa si ricorda in effetti nonostante la sconfitta di 6 a 0 io sono andato a casa molto sorridente perché forse senza forse ho fatto il record di incasso dai miei 25 anni che sono lì a besozzo quindi è stato molto bello vedere un campo pieno di gente a besozzo si è noto ancora di più perché è un campo come appena detto molto raccolto e quindi sono stato contento che il varese ha vinto e io ho fatto un bel incasso benissimo ci sarà un grande incasso anche domenica secondo lei verranno meno tifosi da varese secondo berni sentiamo prima barbarito io mi auguro di sì però sono quasi convinto che non sarà la stessa cosa di tre anni fa come sono anche convinto che questa volta non perderemo 6 a 0 ma ne perderemo 1 a 0 2 a 0 ma non 6 a 0 ecco fra l'altro è il terzo precedente nel campionato di eccellenza fra verbano e varese primo precedente si era giocato a besozzo sul campo del verbano nel 2005 la partita era finita in parità 1 a 1 ce la ricordiamo ancora allenare varese c'era davis mangia che poi è diventato allenatore dell'under 21 e poi è andato anche in romania dove si trova adesso berni quanti ha chiamato raccolto il pubblico di varese per la trasferta questa grande trasferta ma io credo che non ci sia bisogno di chiamare il pubblico del varese perché i tifoni sono molto affezionati la squadra l'abbiamo già visto domenica nella prima partita di coppa e in modo imprevedibile abbiamo avuto un riscontro importante di pubblico e quindi l'importante che sia una bella festa che che sia un bello scontro aperto e che si possa arrivare soddisfatti tutti da 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 questo da questo incontro grazie fabrizio berni sentiamo però cosa dicono gli allenatori abbiamo sentito manuele domenicali che fino all'anno scorso era un po fuori dal giro allenava dei ragazzini del 2004 quindi il varese gli sta dando l'occasione per rientrare un po nel giro ripartendo dall'eccellenza e sentiamo anche alessandro marzio che è l'allenatore del verbano prego il nostro regista stefano rossi di mandare questo contributo con i due allenatori infatti da parte nostra ci sarà il massimo il massimo impegno la massima volontà per per far sì di partire col piede giusto in campionato al di là di quello che è stato appunto tre anni fa beati loro che sono riusciti a vincere 6 a 0 fuori casa io questo non lo posso promettere posso promettere che proveremo a fare una partita importante e magari portare a casa i tre punti a me piacerebbe vedere la squadra come come ha fatto nelle ultime partite con l'atteggiamento giusto la voglia di fare risultato senza aver paura rispettando l'avversario però appunto senza senza aver paura di giocare di provare a vincere insomma io credo che ci sono tutti i presupposti innanzitutto perché è un esordio secondo perché giochi contro una squadra una società blasonata quindi ci sono tutte le componenti per per avere chiaramente la voglia di fare di fare bene Berni domenicali non promette niente però vuole tre punti è certo che domenicali vuole tre punti perché rappresenta varese credo che comunque domenica sarà una sfida vincente difficile con una squadra molto organizzata un presidente che fa il fatto suo e lo sta dimostrando da anni io credo che i ragazzi comunque possano fare bene abbiamo un attacco molto importante abbiamo camarà forse riusciremo a far giocare anche il nuovo acquisto del varese vinaduzzo la punta argentina e quindi speriamo di riuscire a dire il fatto nostro barbarito parole di stima nei suoi confronti da parte di fabrizio berni alessandro marzio vuole provare a vincere ci proviamo ha detto ci proverete ci crede c'è stato finora in campionato a besozzo 11 nella 2005 quindi un pareggio una sconfitta netta 0 6 magari potrebbe essere la volta per battere il varese va onestamente io sono nato tifoso milanista dall'età di sei anni che non avevo né la televisione e nella radio solo perché il mio allenatore che giocavo lì in questo paesino di 1500 abitanti ero lo chiamavano tra patone sono tifoso del milan poi sono dato tifoso del del verbano perché 50 anni fa sono arrivato qui mi sono innamorato di quel campo lì e poi sono tifoso del varese perché questa terra qui abitando da 50 anni mi ha dato molto averlo incontrato per tre volte non mi ha mai fatto piacere a differenza di tanti con le dice che bello e c'è il varese c'è varese ma io il varese quando sono arrivato qua il mio titolare era il papà giovanni borghi era in serie a e allora a vedere il varese in questa categoria a me dispiace molto perché mi sento un figlio adottivo di varese e via quindi onestamente questa partita qua non è che farò salti di gioia se vinciamo mi farà anche piacere però però è una partita che io non avrei mai più voluto rigiocare perché il varese volevo che deve frequentare altri palcoscenici non certo besos parole degne insomma di un grande presidente queste perché comunque rivelano appunto anche l'attaccamento nei confronti della squadra maggiore del capoluogo insomma anche se negli ultimi anni il varese ha perso diciamo le categorie che contano una società che è già fallita tre volte e se il varese non è fallito per la quarta volta lo si deve a fabrizio berni e un po al suo gruppo insomma ma chi gliel'ha fatto fare la domanda probabilmente che si fa anche barbarito di rilevare una società con un milione e mezzo di debiti berni ma che me l'ha fatto fare la le possibilità erano due una era quella di fare fallire varese e ripartire da capo in categorie ancora più umilianti per una città come come appunto varese e oppure cercare di salvare il salvabile e ripartire facendo dei sacrifici ma cercando di avere un percorso più più breve per arrivare in certe categorie le categorie professionistiche che credo che questa città meriti naturalmente il percorso sarà difficile sarà lungo anche perché l'intenzione di questa proprietà è quella di fare i passi lunghi come la gamba come si è sempre detto e quindi si cercherà di far bene a partire da quest'anno assolutamente l'intenzione è quella naturalmente di cercare di vincere però bisogna sempre giocarla non è che prima della partita si sappia il risultato finale e pian pianino cercare di far bene di portare il Varese nelle categorie appunto che contano e l'alternativa sarebbe stata credo catastrofica per la città per i creditori insomma almeno aver dato un aiuto anche coloro che avevano crediti nei confronti del Varese ha fatto secondo me da merito a questa nuova proprietà insomma di voler fare le cose fatte con uno spirito un pochino diverso da quello che è stato fatto fino ad oggi. Bene fanno onore anche queste parole questa attenzione nei confronti dei creditori creditori non ne ha barbaritto è vero che non ha creditori? No assolutamente no adesso non è che mi voglio vantare via però io ai 25 anni da quando faccio calcio non ho mai avuto un feed in banca né con le lire né con gli euro quindi non conosco il conto in rosso fortunatamente nessun fornitore mi ha mai chiamato non mi chiamerà mai e neanche nessun giocatore perché faccio calcio perché non me l'ha ordinato il dottore facendo l'eccellenza a Besosso è come fare la serie A e quindi è giusto che i fornitori non avanzano nulla e anche se l'impegno con i giocatori che hai preso non avanzano nulla altrimenti preferisco fare la seconda o la terza categoria senza non è obbligatorio a Besosso fare l'eccellenza l'eccellenza è già un super lusso quindi faccio calcio in questo modo. Benissimo i conti in banca del Varese prima dell'arrivo di Berni erano in rosso Varese però non è fallito ma sicuramente fallito dal punto di vista sportivo abbiamo visto l'immagine la prima giornata di tre anni fa un socio, uno dei tre soci rifondatori di quel Varese aveva detto non avremo pace fino a quando il Varese non tornerà in Serie B e il Varese dopo tre anni è tornato in eccellenza. Quel Varese di Marrazzo abbiamo visto la partita di Besosso aveva segnato quattro gol Marrazzo, c'era stato appunto il gol di Giovio che abbiamo visto, il gol anche del giovane Michael Cavalcante ma quel Varese era un Varese molto attrezzato, si era speso una cifra per vincere quell'eccellenza vincerla anche con tanti punti di vantaggio sulla seconda. Besosso quanto aveva speso? Era arrivato sesto, quanto aveva speso? Fate fatica a credere però io ho fatto una promessa che il Verbano spenderà i soldi di Marrazzo e il Verbano è arrivato sesto, non ha vinto per l'amore di Dio ci mancherebbe però ha speso i soldi di Marrazzo, non mi puoi credere perché quello che dico è la verità Esatto, è arrivato sesto e oggi si trova in eccellenza Il Varese aveva speso molto di più, ma molto molto di più e dove si ritrova oggi in eccellenza Devo dirti quello che penso, io penso che se si vanno a cercare le persone più strane di questo mondo in tre anni a dire che fanno un milione e mezzo di euro di debiti, penso che non esistono a Varese è successo un tsunami secondo me, perché è impossibile fare tutti questi soldi di debiti frequentando campionati di eccellenza e serie D, cioè è assurdo non faccio fatica a credere, ma faccio fatica a credere poi questo ragazzo qui, questo benefattore, lo chiameremo San... un San lì San Fabrizio, quello che è, secondo me è stato, non lo so, per me è un folle venire a spendere a Varese quella cifra di debiti e lì perché secondo me è assurdo perché le avrebbero messo il tappeto rosso in qualsiasi città importante a partire dall'eccellenza o dalla serie D, magari senza debiti, senza nulla quindi senza problemi, senza nessuna cosa evidentemente Varese non è più la città giardina di una volta e quindi non capisco anche questa cosa qui, di pagare questi soldi qui e via se l'ha fatto perché veramente dobbiamo dare la cittadinanza Varese subito e le prossime elezioni dobbiamo votarlo come sindaco Esatto, quindi un appello per Davide Galimberti, sindaco di Varese date la cittadinanza onoraria a Fabrizio Berni folle, santo, sognatore però Fabrizio Berni non ha ricevuto la cittadinanza onoraria ma ha dovuto pagare 30.000 euro al comune per lo stadio Franco Ossole, è vero? No, vabbè ma a parte le battute c'è un programma, diciamo che è stato preso Varese c'è un programma ben preciso degli investitori la piazza comunque è importante non si è speso un milione e mezzo anche se il debito era di un milione e mezzo ma naturalmente è stato fatto un accordo stragiudiziale con i creditori che ha portato a ridurre parecchio le cifre di cui stiamo parlando e quindi credo che la scelta sia stata fatta in modo oculato in modo giusto e intelligente tra le altre cose l'amministrazione comunale ci sta dando un grossissimo aiuto stiamo programmando cose importanti ci hanno dato il permesso di poter ristrutturare in parte lo stadio per dare più conforto ai tifosi e tra l'altro questa cosa probabilmente ci permetterà di ospitare il Milan primavera e credo che sia comunque di prestigio per la città non iniziare ad ospitare squadre importanti e blasonate e poi insomma non mi interessa la politica quindi il sindaco può stare tranquillo avete dovuto comunque garantire dei soldi? avete fatto un... no va bene naturalmente abbiamo dovuto garantire dei pagamenti i pagamenti... ecco spieghiamolo anche magari chi ha perso questo passaggio insomma no va bene abbiamo fatto un accordo stragiudiziale con i creditori naturalmente erano state messe a disposizione dalla proprietà delle cifre e delle somme che non sono sufficienti per poter chiudere completamente il debito infatti la società comunque sta e deve rifinanziarsi di nuovo c'è un programma di rientro che tra l'altro entra nel vivo proprio adesso a parte alcuni creditori che hanno spinto assolutamente per voler e hanno forzato la mano essendo stati gli ultimi a dover ricevere quando ormai tutti avevano accettato gli ultimi due o tre hanno forzato la mano e ci hanno messo anche un pochino in difficoltà però dai proseguiamo per il percorso che abbiamo deciso di intraprendere cerchiamo di fare... dovremo sicuramente quest'anno fare poco per quello che sono gli investimenti della squadra perché naturalmente i soldi sono quelli che sono quindi ci sarà da portare pazienza ma faremo di tutto per fare una società organizzata in modo da sopperire a quelle che possono essere le qualità di esperienza e di storia della società sto parlando a livello sportivo in questo momento ci stiamo ripartendo da capo abbiamo puntato tantissimo sui giovani abbiamo preso due o tre giocatori di categoria e quindi insomma io sono fiducioso bene sentiamo adesso che cosa pensa del Varese Giancarlo Giorgetti Giancarlo Giorgetti grande tifoso del Varese è comunque adesso ha un ruolo importantissimo perché è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri con Delega allo Sport pregherei il nostro regista Stefano Rossi di mandare questo contributo che Giorgetti ha rilasciato in esclusiva per Bianco Rossi News Io spero che si vada con i piedi per terra un passo per volta solo così si va lontano purtroppo il calcio moderno è fatto in un certo modo e credo che il Varese debba anche essere realista rispetto alle ambizioni lavoriamo sui giovani e poi vediamo cosa succede Ecco lavorare sui giovani è l'auspicio di Giancarlo Giorgetti Sì Berni Credo che siamo più o meno sulla stessa linea Avete invitato allo stadio Giancarlo? Non ho ancora avuto occasione di invitarlo lo inviteremo sicuramente per la prima di campionato e non vedo l'ora di poter conoscere mi hanno detto che è una persona Conosce Giorgetti? Sì, sì persona straordinaria ho avuto la fortuna di conoscerlo personalmente quando avevo l'occasione venivo a vedere il Varese lo vedevo, lo vedevo un bel tifoso era un bel personaggio per il Varese per la cia di Varese ma anche per il Varese Calcio Bene Berni la campagna abbonamenti ha subito un taglio di prezzi giusto? Come mai? Era stata fatta una campagna abbonamenti ipotizzando in un primo momento la categoria, un'altra categoria la serie D le prospettive erano quelle di un ripescaggio in più inizialmente c'era anche un accordo con il Milan per fare giocare la seconda squadra del Milan quindi l'abbonamento prevedeva l'ingresso anche alle partite della società rossonera appunto come quella del presidente di cui anche tifoso e naturalmente quando ci siamo resi conto che le possibilità di giocare in serie D non erano evaporate abbiamo deciso di aggiustare i prezzi e mettere i prezzi giusti per la categoria di appartenenza oggi della nostra società Interessante pregherei il nostro regista di mandare un contributo proprio per lanciare la campagna abbonamenti del Varese carissimi amici grazie, grazie, grazie per avermi ospitato qui negli studi di Biancorossi News io di Biancorosso mi sono messo pure questo perché? perché dobbiamo abbonarci al calcio Varese tutti insieme mi aspetto anch'io allo stadio ci sarò anch'io faremo delle cose grandiose magari annuncerò anche le formazioni ma vediamo se me lo fanno fare faccio pure lo speaker perché Luca Giurato fa tutto e questa nuova società merita la fiducia di tutti perciò amici vi aspetto non mi deludete mi raccomando perché se no che combiniamo qua dove si vede il vero tifoso? il vero tifoso si vede nel momento della sofferenza e della difficoltà la squadra si è ringiovanita la società si è rinnovata e quindi tutti al Franco Ossola lo aspetto pure io ciao amici ciao grazie al nostro imitatore Francesco Mazzei che ha impersonato Luca Giurato oggi Luca Giurato non è più molto di moda però insomma è sempre un un anchorman efficace anche per lanciare la campagna abbonamenti del Varese entriamo nella seconda parte di questa trasmissione quindi togliamo il titolo occhio alla bombonera perché il Varese deve stare attento quest'anno alla bombonera non sarà così facile insomma il nostro pronostico per diciamo mettere il titolo nuovo che è il professore con noi abbiamo incontrato il professore all'improsta sappiamo che Fabrizio Berni è modenese ed è un ferrarista giusto? un ferrarista abbiamo visto la sua Ferrari spesso parcheggiata davanti al Franco Ossola me l'hanno prestata era in prestito me l'hanno prestata mentre Barbarito ama più i cavalli che non le macchine è vero? beh io sono nato in mezzo ai cavalli perché da piccolo facevo il contadino poi qualche anno fa 10-12 anni fa mi è venuta la follia di comprare un cavallo e siccome sono tutto tranne che quello sfortunato e via mi è capitato di vincere il derby a Roma quindi la cosa più importante d'Italia e poi il cavallo il cavallo mi è sempre più rimasto nel cuore perché comunque ha fatto anche la storia dell'uomo il cavallo ha fatto le guerre di tutto quindi il cavallo è una cosa fantastica bellissima via poi a me mi ha dato questa soddisfazione pensa irripetibile perché succede e non a tutti di vincere il derby a Roma a me è successo e me lo tengo bello stretto grande corsa ci mette i brividi eravamo anche noi a Roma in quella circostanza Bruno Grizzetti che è stato nostro ospite qualche tempo fa insieme a Michol Borgato insomma la sua ex moglie aveva vinto proprio per i colori della scuderia il derby con Cima di Triunfo grande cavallo fra l'altro ma anche Bernie ha mai cavalli anche lei ha avuto dei cavalli nel trotto però colpo di scena colpo di scena è vero è vero Bernie mio nonno aveva i cavalli anche io vengo da una famiglia di contadini fornai e quindi sono vissuto in mezzo alle bestie fra cui i cavalli che amo e avevamo i cavalli da trotto adesso abbiamo dei cavalli da dressage che a me piace ogni tanto montare quindi assolutamente concordo la passione del presidente benissimo allora lanciamo così una promessa potreste trovarvi per andare a cavallo insieme potremmo andare domenica nel derby a cavallo schiena permettendo perché lui è giovane io ho una certa età bene siete entrambi entrambi giovani ecco adesso parliamo di un altro giovincello del 1955 prego il nostro regista Stefano Rossi guardate lo riconoscete riconoscete chi è questo ometto che esce con questo cavallo due ruote questa bellissima bicicletta salute i fotografi è un'immagine inedita diciamo di Alain Prosta non vestito da corridore da pilota di Formula 1 ma vestito da corridore ecco che si mette in sella alla sua bici e ha partecipato a Varese 2018 il gran fondo che si è appena conclusa in città saluta i fotografi ci saluta e parte rischiando fra l'altro un incidente adesso vedremo il prossimo il prossimo frame con questo incidente rischiato da Alain Prost vediamo un'automobile vabbè non ha rischiato nulla c'è una clip che però vorrei farvi vedere adesso Alain Prost ci ha parlato prima della sua passione per il calcio e poi anche ha fatto una riflessione riguardo ai giovani pregherei il nostro regista di mandarle in onda entrambe l'una dietro l'altra grazie il sport è tutta la mia vita sono andato alla scuola del football alle 8 ero molto vicino di essere un giocatore di calcio di football a 14 15 anni mi sono rompato il braccio e dopo sono andato al go kart era realmente una cosa che non pensavo fare ma dopo ho fatto il tennis ho fatto il ski da un buon livello ho fatto il golf e ho sempre quando tu fai il football tu capisci la differenza quando il golf è ancora peggio il ski tutto questo tipo di sport e quando tu fai molti sport tu vedi ancora di più la differenza è facile di toccare qualche cosa ma per essere a un livello giusto ma è anche come ti dicevo spirituale perché è bene di vedere e di capire qual è il distacco e infatti quando tu capisci il distacco da un amatore o un professionista tu hai ancora più rispetto per questo questo tipo di performance anche squadra giocata di football come? e qual è la squadra con cui hai iniziato? Saint-Etienne ah Saint-Etienne quindi no Platini era sì sì Platini era un amico tutta la squadra di 76 vuol dire quando avevo 20 anni sono andato a giocare a Saint-Etienne per qualche mezzo quando era junior e prima di rompere con Dominic Rosto era la stessa la stessa la stessa periode era un bel campionato anche se non ho visto un gioco in tutto questo campionato con molto entusiasmo non ho visto dei match incredibili ma il risultato per la Francia è fantastico secondo me qual è il secreto di De Chant sembra poi che la Francia abbia vinto anche in scioltezza no? il suo secreto era di trovare la possibilità di trovare ai posti giusti solamente per guadagnare 4 match consecutivi senza la maniera possibile è vero ma anche con il molto era affidabile quello la sua secreta ho cominciato per esempio la mia carriera più o meno a 18 anni ma in Formula 1 a 25 non era possibile di guidare una macchina prima da 19 perché bisognava di un anno di licenza adesso abbiamo per esempio Max Verstappen che ha cominciato la Formula 1 a 17 anni e tutti i giovani cominciano la competizione in go-kart più o meno da 5 a 8 non è la tua decisione se tu cominci il go-kart da 5 a 8 anni non è la tua decisione è la decisione dei parenti non è lo stesso e come tu fai a pensare diciamo dalle 8 a 18 pensare da una maniera diversa di avere sempre qualcuno o qualche persona vicino da te e quello è diverso dalla nostra generazione è per quello che possiamo aiutare possiamo parlare ma non possiamo cambiare tutto non è vero ecco parole interessanti insomma non è la loro decisione i ragazzi incominciano sui go-kart dai 5 agli 8 anni ma non è la loro decisione la decisione dei loro genitori voi siete genitori vostri figli fanno sport ma mio figlio ha fatto sport come tutti ha iniziato a fare calcio e ha fatto quello che ha voluto e ha smesso quello che ha voluto poi sono stato anche un po' cattivo non l'ho mai fatto giocare nel verbano calcio lui è stato un ragazzo intelligente che è andato a giocare con i suoi amici e poi ha smesso mentre figlio di Fabrizio Berni Stefano giusto? io ho tre figli Stefano il più grande gioca studia per fortuna ingegneria e fa gioca pallone in questo momento gioca nel Modena Thomas ha deciso di smettere quest'anno giocava nel pallone anche lui e Veronica invece è appassionata di cavalli quindi è una cavallerizza ecco come si dice bene siamo in chiusura questa gara per ora non si è ancora giocata l'abbiamo giocata un po' qui in studio ma punzecchiatevi per favore punzecchiatevi Barbarito parto io parte Berni parto io offrendo regalando un omaggio al presidente del Varese il cappellino del Varese al presidente del Varese ha detto al presidente il cappellino del Varese in segno di amicizia insomma che sia una sfida pulita sarà così grazie di cuore Barbarito una stoccata una stoccata come ho appena detto comunque sono un tifoso del Varese mi auguro che il Varese ritorna in fretta possibile nei campeonati che merita mi è simpatico questo ragazzo qua per tutto quello che sta facendo logicamente spero che Domenica sia una bella partita io faccio un grande incasso e possibilmente se finisce 0-0 siamo amici tutti benissimo accordatevi per uno 0-0 datevi la mano grazie l'appuntamento è per settimana prossima con Bianco Rossi News l'ultimo saluto però farei fare proprio dai nostri due ospiti saluto di Barbarito e i telespettatori di Bianco Rossi News vi aspetto domenica in molti a Besozzo e vi auguro tutte le situazioni possibili che ritorna il Varese dei bei tempi quando la si chiamavano la città giardino ecco io vorrei vedere anche il calcio che ritorna lì ma con continuità quello che posso dire io a Fabrizio che conta più la continuità che gli esploa cioè io ho fatto 22 anni consecutivi in eccellenza due anni di serie D e uno di promozione però la continuità quindi è inutile promettere andare in serie B poi durare magari un anno o due e ritornare ancora indietro penso che Varese ha bisogno di continuità di ripulirsi un po' di tutto e di trovare ancora passione per il calcio che negli ultimi diciamo che negli ultimi anni si è un po' persa ecco Bernie io saluto tutti vi aspetto tutti allo stadio e a partire da domani che è con questa sfida appassionante e forza Varese bene grazie arrivederci grazie a tutti grazie a tutti